I rappresentanti di WWF, Legambiente e Cittadinanza Attiva e Club Alpino Italiano, tra i promotori dell'Osservatorio Indipendente sull'Acqua del Gran Sasso, hanno presentato le loro attività in vista dell'avvio del procedimento penale davanti al Tribunale di Teramo a carico dei vertici di Strada dei Parchi, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Ruzzoreti a seguito dell'incidente dell'8 e 9 maggio 2017 che dimostrò, dicono le associazioni, per l'ennesima volta alla situazione di pericolo in cui versa l'acquifero del Gran Sasso al cui interno trovano posto le gallerie autostradali dell'A24 e i laboratori sotterranei dell'INFN. All'udienza di domani le quattro associazioni si costitueranno in giudizio l'avvocato Domenico Giordano. Sì, certamente questo non è un processo che si contrappone ai laboratori del Gran Sasso quindi non è un qualcosa contro la scienza. Però è anche importante che chi ha sbagliato, cioè che chi non ha adottato le opportune misure di sicurezza, poi venga processato sostanzialmente, che le responsabilità siano fatte valere. Il Presidente di Lega Ambiente, Giuseppe Di Marco. Sì, è importante domani che venga accolta la nostra richiesta. Come parte civile ci costituiamo in Lega Ambiente insieme col WF, Cittadinanza Attiva e CAI ma in rappresentanza del più ampio movimento. Stare dentro il processo significa fare chiarezza. E garantire la presenza dei cittadini. Intanto ci si chiede che fine ha fatto il Commissario e il portavoce dell'Osservatorio, Massimo Fraticelli. Questa è una domanda che ci poniamo tutti. Il 3 di luglio doveva essere nominato il Commissario. Attualmente abbiamo un nome ma non è stato concluso per ciò che conosciamo noi l'iter di nomina del Commissario stesso. Questo significa che si è perso ulteriormente tempo. Quindi una vicenda che nasce sostanzialmente 16 anni fa, che vede già una spesa di 80 milioni di euro di un Commissario Balducci. Rinasce di nuovo con i fatti del 2017, del maggio 2017. Oggi siamo a settembre 2019 e sostanzialmente oltre a un controllo ferreo che giustamente gli enti di controllo devono fare, un monitoraggio dell'acqua ferreo. Si perdono 110 litri al secondo di acqua e l'acquifero in soldoni non è stato messo in sicurezza.